Il velo di Iside nasce dall'idea di parlare della mia terra, di Napoli, dei campi fegrei e della campania. Naturalmente di parlarne lasciando da parte un po' i soliti stereotipi, quindi quelli un po' leografici, la pizza, il pallone, la criminalità, che sono problemi e sono anche bellezze della nostra terra, ma Napoli è anche altro. Quindi volevo fare un passo indietro, cercare la nostra napoletanità moderna nella storia. Il romanzo ha tre fili che poi si intersecano. Una è la storia sentimentale, una storia d'amore, tra un navarco, un comandante della flotta romana che era a distanza a Miseno, e una sacerdotessa di Iside che abitava nel tempio, prima nel tempio di Iside a Neapolis, che si trovava più o meno nella zona che oggi chiamiamo Piazzetta Nilo, e poi si sposterà a Puteoli, dove c'era anche qui un Iseo molto importante. Poi c'è un filone un po' avventuroso, parliamo di una congiura nei confronti del popolo romano, e chiaramente i due protagonisti cercheranno di sventare questo attentato. Sicuramente sì. È nato anche sulla scia di un interesse per il nostro patrimonio culturale, che spesso è sottovalutato, e tra questi proprio i campi flegrei. Adesso il mondo conosce benissimo Pompei, conosce Ercolano, adesso conoscono anche Napoli e tutta la stratificazione storica che la caratterizza. Noi abbiamo appunto una storia e abbiamo delle testimonianze che iniziano appunto dal VI secolo, potremmo dire, avanti Cristo fino ai giorni nostri. C'è una stratificazione culturale molto forte, ma ci sono delle zone come quelle per esempio dei campi flegrei, dove questa riscoperta e questa valorizzazione è stata sempre abbastanza lenta. non tanto perché gli operatori culturali non abbiano cercato di valorizzare il territorio, ma, ahimè, anche perché ci sono delle carenze dal punto di vista delle infrastrutture, quindi che non permettono ai visitatori, ai turisti di raggiungere questi luoghi meravigliosi facilmente. Cuma, ecco, in Corallion io parlo di Cuma, della Sibilla, proprio dell'Averno come luogo da cui si entrava nell'Ade. Sono tutti spunti storici e nello stesso tempo letterari e di grande mistero, di grande suggestione, che non possono che far altro che incuriosire ancora di più il nostro lettore. Questo è quello che io cerco di fare con i miei libri, quello di incuriosire in modo che il lettore, e quindi un domani il visitatore, possa arrivare qui con la voglia di scoprire. Naturalmente in un romanzo storico non si dice tutto, si incuriosisce il lettore. Quindi quello che noi, quello che io cerco di fare è quello di creare quella scintilla, in modo da suggerire e poi da condurre chiunque voglia senta questo bisogno di sapere di più nei luoghi dove i romanzi vengono poi ambientati. L'idea è quella di continuare su questa strada, quella di continuare a scrivere perché per me la scrittura è fonte di vita, è fonte di emozione e quindi io sicuramente continuerò sia come giornalista sia come scrittrice ad occuparmi della storia e delle bellezze della nostra terra, della Campania. Vorrei, ecco come dicevo prima, vorrei portare il mio sguardo anche oltre perché ci sono tantissime suggestioni che riguardano per esempio tutta l'entroterra campano che ha una storia incredibile. Non dimentichiamo che i greci sono arrivati qui appunto nel VI secolo a.C., ma questa era l'Opicia, qui c'erano altri popoli, c'erano i Mamerti, c'erano i Sarrassi, c'erano quelli che poi saranno le popolazioni che combatteranno anche contro Roma, qui sono arrivati gli Etruschi. Quindi vorrei parlare anche di altre suggestioni, far conoscere una storia che esisteva anche prima. I popoli italici avevano già una loro storia importante da raccontare.